Giulia sa che c'era lei, c'era lei, ma nell'acqua c'era lui, che andava a spezzare, lei prendeva il sole, in bichiglia righe blu, righe blu, che ascoltava mentre lui, così meno chiari, e plorava il mare, e la piaggia mi ha volato in te, e la ventina di me, ho aperto gli occhi per guardare intorno a me, intorno a me girava il mondo, il mondo gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me, un mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi vedo, e solo niente accanto a te, il mondo... Scusi, scusi canto, permesso, Buongiorno, 224, secondo piano, la signora è in campo, tutti i core della gente, tutti i cittadini, giù di su dietro, e qua su dietro, cazzo, calmi, si chiama in ascensore, calmi, fermi, fermi ma che ci avrete Giuliana buongiorno scusi il Baltic l'hotel Baltic eh si addio marletti piacere marletti piaciata dal vento che viene dal mare a caso alla riva piatti la pelle ma giorno per un giorno ti riempi di bolle le gambe le fragellate le palle rilassi bruciate da quando tu prendi tu prendi il soleone sei rossa stellata sei come un peperone da quando tu prendi tu prendi il soleone sei rossa stellata sei come un peperone Giuliana Giuliana ormai pure l'ombra continui a scottarti nemmeno la luna riesce a calmarti appena ti tringo tu urli tu piaci mio pallido Giuliana da quando tu prendi tu prendi il soleone sei rossa stellata sei come un peperone ormai pure l'ombra continui a scottarti nemmeno la luna riesce a calmarti appena ti tringo tu urli tu piaci mio pallido amore signore la valigia si va bene la valigia è la mia lasciala pure lì dico si bussa prima di entrare no da quando tu prendi tu prendi il soleone tiè sei come un peperone da quando tu prendi il soleone da quando tu prendi il soleone un due un due tre quattro un due tre quattro uno due tre quattro stupendito leone sei rossa stellata sei come un peperone eccomi noiosone ma no ma no ma no lasciami lasciami che ho provato con il parrucchiere si? hotel Baltic? sono l'ingegnere Marletti grazie a rivederla ciao ciao Grazie per la visione!